Buongiorno ragazzi delle classi seconde, oggi affronteremo il tema e la lezione sulle plastiche. È un argomento tipico appunto del secondo anno e in queste slide verranno trattati gli argomenti che trovate da pagina 120 del vostro libro di teoria della Zanichelli, da 120 a pagina 129. Quindi adesso faremo un po' le diverse trattazioni che trovate e troverete appunto nel vostro libro. Allora, le plastiche nella storia. Le plastiche sono un materiale estremamente recente, non esisteva prima di 100 anni fa. Perché? Perché è un prodotto derivato dalla Virgil Nafta, quindi da dei polimeri ricavati dalla Virgil Nafta, che è un prodotto di distillazione del petrolio. Quindi all'inizio, alla fine dell'Ottocento, ai primi del Novecento, l'industria e la rivoluzione industriale ha scoperto la possibilità di distillare, raffinare e separare quindi le componenti che costituiscono il petrolio, ricavarne la Virgil Nafta e da questa la lavorazione di questo prodotto genera appunto la plastica artificiale. Prima di questa plastica artificiale, tutti i materiali con valenze elastiche, plastiche, che erano rappresentate dalle gomme e quindi dalle gomme ricavate dal caociu, ricavate appunto dalle piantagioni di caociu. Ora invece vedremo appunto come generiamo, si generano i vari prodotti plastici. è un prodotto estremamente diffuso e utilizzato e vedremo appunto le varie classificazioni. Sappiamo appunto che la plastica la troviamo in ogni oggetto che utilizziamo quotidianamente, veramente adesso ha una diffusione totale. Le plastiche artificiali le troviamo ovunque, dagli indumenti, agli oggetti, agli involcoli per l'alimentazione, per le bibite e per gli imballaggi, sono veramente ovunque. Per la loro versatilità, la loro flessibilità, per la facilità di lavorazione e per tutta una serie di caratteristiche che ne hanno permesso una grandissima diffusione. Le plastiche si suddividono in due grandi famiglie, termoplastiche e termoindurenti. Questa divisione è importantissima. Le termoplastiche sono le plastiche che si possono modellare a temperature sufficientemente basse, relativamente basse. Queste vengono utilizzate proprio per la produzione di oggetti che sono in qualche modo riciclabili. Pensiamo ai contenitori dell'acqua, quindi le bottiglie di plastica, agli imballaggi, a molti utensili, a molti giocattoli. Sono tutte plastiche che possono essere rifuse a temperature, appunto, dicevamo, relativamente basse, a poco più, dai 50 ai 100, meno dei 100 gradi, e queste plastiche non si fondono, si plasmano, ma non si bruciano. Mentre le, vedete, qui avete l'esempio classico della cannuccia, che a temperatura relativamente bassa, quindi avvicinata a una fonte di calore, può essere sagomata, può essere fusa, può essere modellata. Mentre le plastiche termoindurenti, che non si modellano a queste basse temperature, non si adattano, ma possono solo che bruciare o carbonizzare. Quindi queste plastiche che resistono sia alle medie ed alte temperature, sono utilizzate prevalentemente per l'impiantistica elettrica. Tutti gli involucri di cavi elettrici, quindi cavi, fili, oppure avvitatori per lampadine, e tutte quelle componenti che possono essere a contatto, possono venire a contatto con materiale che può raggiungere elevate temperature, quindi appunto gli impianti elettrici. Queste due grandi famiglie sono estremamente importanti perché sono la classificazione principale. Dopo aver visto le caratteristiche meccaniche, quindi le caratteristiche di lavorabilità e di plasticità, la plastica appunto è stata denominata plastica proprio per queste capacità di essere modellata e di assumere molte forme in maniera plastica, ora vediamo come avviene proprio la produzione del polietilene, cioè dei polimeri derivati appunto dalla virgil nafta. Ora vediamo proprio il processo chimico che permette questo, e quindi tutta l'industria chimica come si è sviluppata proprio per la produzione di questo elemento estremamente diffuso e utilizzato nel Novecento, nell'era contemporanea. Sì, dicevamo, la virgil nafta viene ricavata dalla distillazione a 250 gradi del petrolio, si presenta allo stato liquido, quindi a temperatura ambiente si presenta allo stato liquido e se noi osserviamo questo liquido al microscopio, scopriamo che è costituito da molecole composte singolarmente da due atomi di carbonio e quattro atomi di idrogeno. La combinazione, vedete, di questi atomi è abbastanza originale, nel senso che ha una condizione simmetrica, i due atomi di carbonio, che sono gli atomi più grandi, sono disposti adiacenti, sono a contatto tra di loro e sono disposti simmetricamente con gli atomi di idrogeno. Ovviamente queste molecole, essendo allo stato liquido, vedete, hanno un legame molecolare piuttosto labile. Si dice labile in quanto la distanza tra molecola e molecola è maggiore. Per far sì che questa condizione molecolare possa cambiare e cambiare quindi di stato e diventare una componente solida, cioè quindi un materiale solido, deve essere lavorato in maniera particolare. In questo proprio consiste il processo chimico di polimerizzazione, cioè questi monomeri, queste molecole che singolarmente vengono chiamate appunto monomeri, devono essere trasformate in polimeri, in catene ordinate e organizzate, chiamate appunto polimeri. Quindi questa trasformazione chimica fa sì che il risultato finale non sia altro che un granello, un granellino di plastica, un aggregato di polimeri ordinati che costituiscono la plastica. Questo può avvenire con la prima vaporizzazione, quindi la virgin nafta viene fatta evaporare con appunto l'inalzamento della temperatura e successivamente centrifugate all'interno appunto di macchinari che con la forza centrifuga possano essere riordinate in catene filamentose, che poi vengono spezzate e sgranate in granelli. Quindi questo processo è un processo industriale chiamato appunto di polimerizzazione. I polimeri sono di molte tipologie. Abbiamo polimeri che hanno impieghi diversi per le loro caratteristiche. Uno dei più usati è sicuramente il polietilene ed è utilizzato per i contenitori, bottiglie, flaconi e per uso alimentare ed è estremamente diffuso ed è un polimero che può essere, fa parte della famiglia delle plastiche termoplastiche e quindi possono essere riutilizzate. Infatti noi abbiamo un grosso impiego di questi flaconi che devono assolutamente essere riciclati per essere riconvertiti in altri oggetti. Quindi come dicevamo, questi processi di polimerizzazione attraverso appunto lavorazione in autoclave ad altissime pressioni e alte temperature pari a 300 gradi permette la realizzazione appunto di questi polimeri PET è quello il primo che abbiamo visto il PET è il primo che abbiamo visto il PET è un altro elemento plastico estremamente utilizzato molto resistente alle alte temperature 200-250 gradi ed è utilizzato particolarmente per contenitori per la cucina impiegati sia per il forno o il microonde o le basse temperature in frigorifero o congelatori i polimeri PP il propilene è estremamente resistente agli agenti chimici ed è ottimo nell'isolamento termico viene appunto usato negli articoli domestici di arredamento e impianti elettrici tubature per l'edilizia tubazioni per l'edilizia e per gli impianti fognari ed è molto molto utilizzato e diffuso il PS il polistirene anche questo è stra-impiegato basti pensare agli imballaggi il polistirolo classico che ultimamente ha una funzione speciale in edilizia per l'isolamento termico quindi sia negli elettrodomestici come i frigoriferi, i congelatori ma soprattutto appunto dicevamo nell'ambito dell'edilizia è un ottimo elemento per l'isolamento termico delle abitazioni uno degli ultimi non ultimo ma uno dei tanti utilizzi è appunto il PVC cloruro di polivinile è estremamente diffuso è utilizzato nel settore dell'edilizia dell'arredamento e della serramentistica vengono fatte finestre o tutta l'oggettistica per la casa e tutto ciò che deve essere durevole nel tempo e piuttosto solido e consistente viene utilizzato proprio questo cloruro di polivinile rimando la seconda parte grazie a tutti grazie a tutti